Stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna avere controllato tutto e tutti. Questa è una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com'è. Vedo l'ora che tanti ragazzini compiano 18 anni per far parte della nostra straordinaria comunità, però ribadisco che la cittadinanza arriva alla fine di un percorso, è una cosa seria. Si può dare per motivi eccezionali, come io stesso ne ho firmate per motivi eccezionali, però la legge è questa e la legge non si tocca. Io lo invito quando ho gli elementi a disposizione per decidere e purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. E mi spiacerebbe moltissimo, però così è. Come risponde Rami che a sua volta l'ha risposto.